Quale sarà il futuro delle pensioni di italiani dopo quota 100? Si balla tra quota 102 e quota 104, ma potrebbe venire fuori anche un quota 103. Comunque sia, bisognerà andare in pensione più tardi rispetto ad oggi. Tra poco sullo schiacciassassi approfondiremo il tema. Cari amici vicini e lontani, bentornati a questa puntata dello schiacciassassi da parte di Stefano Vele. Ne starete con noi fino alla fine della puntata, vedrete anche come il nostro Domenico Lacava interpreta a modo suo graffiante la situazione. Dicevamo di quota 100, che giunge alla fine del periodo di sperimentazione triennale lanciato dal governo Conte I, al 31-12-2021. Dopodì allora, tra la mezzanotte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio, se non cambia nulla, scaterebbe nuovamente la procedura della legge Fornero, ovvero sia in pensione a 67 anni con almeno 38 anni di contributi. Un bel scalone rispetto all'attuale che prevede di andare in pensione a 62 anni con 38 anni di contributi, quota 100 appunto. Il problema è che quota 100, a rispetto di quello che ha sempre detto il suo proponente principale, quindi il leader della Lega Matteo Salvini, non ha favorito né il prepensionamento di chi ne aveva bisogno, quindi categorie usuranti, pensiamo i lavoratori delle fonderie, i lavoratori dell'edilizia, gli autisti e quant'altro, ma ha privilegiato soprattutto i lavoratori maschi e in particolare i dipendenti del pubblico impiego e del privato. E soprattutto la cosa più grave è che, a rispetto dell'annunciato ricambio generazionale all'interno dei luoghi di lavoro, per cui si diceva che per ogni pensionato di quota 100 si sarebbero inseriti nel mondo del lavoro almeno altri tre lavoratori giovani, ebbene, alla prova dei fatti, alla fine del terzo anno di sperimentazione, questo livello è stato raggiunto a metà di coloro che escono dal luogo di lavoro, per cui, secondo i dati Istat, per ogni lavoratore uscito in quota 100 solamente lo 0,4% di nuovi assunti sono entrati nel mondo del lavoro. Un sistema fallimentare, così come fallimentare a reddito di cittadinanza, altro bandiera del governo Conte 1, questa volta proposta dal Movimento 5 Stelle. Con la differenza, però, di una cosa fondamentale, che Salvini ha proposto la sua legge bandiera come un termine sperimentale con un termine temporale ben fisso, tre anni, mentre purtroppo per quota 100 non c'è stato nessun limite temporale, nessuna sperimentazione. È partita e basta, nonostante che sia un buco nell'acqua e assorba, come una piovra, soldi pubblici a non finire. Ma torniamo a quota 100. Si parla sempre di cosa fare dopo questo livello degli 62 anni di anzianità con 38 di contributi. Ebbene, le proposte sul tavolo sono quelle di innalzare, già dal 2022, requisito minimo per andare in pensione, ad almeno 64 anni e sempre 38 anni di contribuzione, quindi quota 102. O altrimenti è proporre per il 2023 quota 104, quindi con 64 anni di anzianità retributiva e 48 di contributi. Il problema, per così come è proposta la normativa, è che fare uno scalino di due anni ogni anno finisce col penalizzare le persone, perché chi sta uscendo nel mondo del lavoro in quel preciso istante non fa in tempo a maturare la propria quota che subito scatta quella successiva. Da questo punto di vista bisognerebbe far sì che l'eventuale scalino tra quota 102 e quota 104 scattasse non ogni anno, ma almeno ogni 18 mesi o meglio ancora ogni due anni. Però il problema è sempre la quadratura del cerchio finanziario, perché quota 100 è costata e costerà, perché i suoi effetti si porteranno avanti per almeno i prossimi dieci anni, qualcosa come 30 miliardi di euro. Una follia rispetto soprattutto al successo, diciamo, di ricambio generazionale e del fuoriuscito del mondo del lavoro di chi veramente ne ha bisogno. Il problema, appunto, oggi è trovare una quadratura del cerchio, perché è oggettivamente sotto gli occhi di tutti che al giorno d'oggi, con l'aspettativa di vita che si sta sempre più allungando, a parte la parentesi del 2020 in cui secca in un anno è calata di addirittura un anno di vita, non si può pretendere che i contributi previdenziali coprano 15, 20 o addirittura anche 30 anni di trattamento pensionistico, considerando anche eventuali trattamenti di reversibilità al coniogi superstite. Il sistema sta fallendo, anche perché al giorno d'oggi il sistema pensionistico italiano che fa capo all'Inps assorbe circa il 30% delle risorse del bilancio pubblico, che è un'enormità. Però attorno alla riforma delle pensioni c'è anche un altro aspetto che pochi parlano e viene sottacciuto. È che con il sistema contributivo entrato in vigore nel 1996, coloro che vanno in pensione vanno sulla base di quello che hanno effettivamente versato, quindi con lo loro montante contributivo, con la somma dei contributi di tutta una vita. La qualcosa fa sì che la pensione finale sarà decisamente inferiore rispetto a quella fino adesso goduta da genitori e da nonni col sistema retributivo che consentiva di avere una pensione pari al 2% del proprio reddito lordo lavorativo moltiplicato per il numero di anni di anzianità. Quindi uno andava in pensione con 30 anni di anzianità contributiva e aveva il 70% dell'ultimo stipendio. Andava in pensione con 40 anni e aveva l'80% dell'ultimo stipendio. Ed erano cifre interessanti. Viceversa col sistema contributivo puro questo non accadrà più perché sulla base di quello che uno ha versato tanto riceverà, moltiplicato per una serie di coefficienti di rivalutazione basati sull'età di effettivo pensionamento come si vede nella tabella. Una tabella che viene aggiornata ogni due anni dal Ministero delle Finanze sulla base delle aspettative di vita e delle previsioni finanziarie. Con il sistema di rivalutazione vigente al 2021 chi va in pensione con il sistema contributivo pieno a 62 anni fruisce di una redditività del 4,770% mentre chi dovesse andare in pensione a 65 anni il coefficiente di moltiplicazione sale al 5,220% per poi salire fino a una vetta del 6,463% se si va in pensione a 71 anni. Una soglia che al giorno d'oggi è riservata solo per pochi magistrati, avvocati, liberi professionisti nel campo del diritto e quant'altro. Ed è una soglia oggettivamente piuttosto difficile da raggiungere. Però siamo semplicemente al discorso del 65 anni che può essere una soglia cui tendere a livello e che si tende anche a livello europeo. A 65 anni si matura il 5,220%. Ovvero sia, su ogni 100.000 euro di montante versato nel corso della vita lavorativa il trattamento pensionistico sarà pari a 5.220 euro all'anno lordi. È facile fare il conto di quello che uno si aspetta di pensione perché se matura nel suo arco contributivo di 200.000 euro lui potrà avere una pensione annua lorda di circa 10.500 euro circa. Se ne matura invece 300.000 salirà a 15.000 euro o poco più lordi sembra. Fa una pensione più o meno netta di circa 1.000-1.200 euro al mese. Non è sicuramente una pensione annabili e soprattutto non lo è rispetto alla mole di contributi versati che è decisamente superiore rispetto a quella dei propri genitori e dei propri nonni. Ecco, da questo punto di vista bisognerebbe pensare non tanto anche all'età di andare in pensione fatto a salvo naturalmente per quelle categorie che meritano di poter andare al lavoro perché a 62-63 ma anche a 55 anni è aggiuntivamente difficile arrampicarsi su per i ponteggi far stare tutte le otto ore continuativamente alla guida oppure nel caso delle forze dell'ordine correre dietro ai malfattori. Per tutti i costori bisognerebbe far sì che all'interno delle varie filiere di lavoro ci potessero essere dei flussi di cambio di mansione senza dover perdere il lavoro per cui un lavoratore anziano viene destinato via via sempre più a mansioni più burocratiche ed ufficio di manutenzione di mezzi e quant'altro intanto che perlomeno non raggiunge l'età pensionistica. Ma soprattutto bisognerebbe incominciare a riflettere seriamente sul quantitativo dell'ammontare delle pensioni perché soprattutto per i giovani che al giorno d'oggi hanno una carriera lavorativa e pensionistica molto incerta e soprattutto discontinua costoro arriveranno ad avere delle pensioni non tanto a 65 anni ma dovranno lavorare anche fino a 70 per poter accumulare un montante significativo e soprattutto bisognerà trovare un sistema per poter integrare le loro aspettanze che non si potrà fare solamente e esclusivamente tramite la pensione integrativa che viene alimentata tramite l'utilizzo del fondo di liquidazione del famoso TFR o tramite versamenti volontari da parte dell'aspirante pensionato ma bisognerà far sì che ci sia un qualche forma di trattamento sociale per poter evitare di formare una serie di pensionati poveri Bisognerebbe far sì che ci fosse un'integrazione sociale basilare minima e quant'altro per far sì che le pensioni che si maturino fossero effettivamente adeguate al costo della vita e soprattutto territorializzate perché un conto è vivere in una gran città metropolitana come Milano, Roma è un conto è vivere in campagna o in zone dove il costo della vita è decisamente più basso come al sud non bisogna fare l'errore del reddito di cittadinanza che ha parametrato l'intervento uguale su tutta Italia con il risultato che al sud Italia il percepito è interessante e consente di vivere magari arrotondando con il nero e soprattutto facendolo allontanare in questa maniera qua le persone dal lavoro regolare mentre al nord con il reddito di cittadinanza si paga a malapena un affitto il che è veramente una spericuazione. Cari amici vicini e lontani vi avevo annunciato di come il nostro domenico la cava vede questa situazione andiamo a vederla. La cava parte da un racconto storico in cui c'è una persona che incomincia a scavare che dice tutto ebbe inizio con la favore nero poi quota 100 e intanto lo scavo prosegue e si approfondisce sempre di più. Poi 102 poi 104 poi chi offre di più e si arriva negli inferi. Speriamo che questa visione non si tramuti in una realtà. Cari amici prima di salutarvi vi ricordo di iscrivervi al nostro canale per darci la forza per andare avanti con questa voce libera, autorevole, indipendente e soprattutto fuori dal coro. Da parte di Stefano Ele intanto un arrivederci e alla prossima puntata. Ciao!